e benvenuti in questa nuova realizzazione di conad adriatico oggi apriamo il secondo punto vendita della famiglia rita a civita nova marche in via zavati al numero 6 un punto vendita che definire spettacolare e poco iniziamo questo percorso bellissimo commerciale spiegando il reparto panetteria il reparto è stato completamente rivisto nel suo assortimento con i forni i prodotti lavorati e presenta non solo l'assortimento classico di un supermercato ma anche tantissimi panifici del luogo proseguiamo il nostro viaggio nel reparto ortofrutta alle mie spalle come vedete il frigorifero americano che è un classico di questa presentazione merceologica e poi all'interno del reparto anche qui abbiamo inserito i pronti dell'orto come potete vedere questa gastronomia inserita all'interno del reparto produce oltre 80 referenze che vanno dalle cose più banali come una macedonia preparata fresca all'ananas già pronto da servire fino a cose più elaborate come minestrone minestrone particolarmente ricchi di materiale salutistico o addirittura insalate di varia natura o primi piatti elaborati la novità di quest'anno che arriva a espressa è anche quella di inserire degli yogurt con e senza lattosio che hanno all'interno della frutta secca e della confettura premium biologica sia di ciliegie che di pesche la prosciutteria caratteristica del supermercato conad di via zavatti è legata a questo grandissimo assortimento di prosciutti che va dal prodotto martigiano tradizionale fino addirittura alla categoria anduk che è il maiale per antonomasia di qualità eccelsa e viva lo stato brado quindi offriamo varietà che vanno dai 90 euro al chilo fino ai 19 in un assortimento spettacolare che il cliente ha recepito in una maniera eccezionale come vedete dall'affluenza alle mie spalle a civita nuova come a macerata però in una visione ancora più ampliata un grande reparto formaggi la formaggeria che cosa significa significa offrire un assortimento sia come ampiezza e profondità di valori è dedicato non solo ai formaggi del territorio ma tutte le eccellenze nazionali da nord a sud in tre metri un estratto e un condensato di assortimento di un alimento che è croce edilizia dei nostri palati è natale e anche con ad adriatico come in tutti i punti vendita delle nostre regioni presenta la nuova linea dei prodotti con ad nazionale ideata per le feste che si chiama saporide questo piccolo cross selling all'interno della piazza del fresco per far conoscere e degustare tutte le novità natalizie di questo nuovo brand di conad sapori e idee non dimenticatelo siamo davanti ad uno dei bastioni della piazza del fresco del conad civita nuova marche la teca delle carni va paragonata come a una culla dove per 10 20 30 o anche 40 giorni vengono conservate le carni di razze pregiate l'amarezzatura e la diciamo la conservazione per più giorni all'interno di questo scrigno che sta dietro le mie spalle fa sì che questa carne e questa è una qualità e una prelibatezza uniche le carni ma ricordato che sono italiane come origine allevamento quindi con un percorso di feriera 100 per cento italiano che oggi è tanto gradito dal consumatore marchigiano anche in questo punto vendita come a macerata in altre strutture con adriatico continua la collaborazione con sushi gourmet e ha realizzato un altro corner un punto vendita qui a civita nuova civita nuova marchi un luogo che apprezza molto questo tipo di diciamo sapori e gusti e abbiamo realizzato un corner molto all'avanguardia perché oltre a proporre il classico menu ha inserito anche un servizio di prenotazioni tramite whatsapp che rende anche facile l'acquisto in qualsiasi ora della giornata dalle 8 alle 20 siamo arrivati alla cucina la gastronomia come la vogliamo chiamare divisa in due tronconi ce n'è uno con la rappresentazione di circa 20 referenze calde e altre tante fredde quindi in poco spazio un menù di oltre 32 portate che rappresenta dall'inizio alla fine tutto il territorio marchigiano e anche degustazioni particolari legate ai nuovi cibi etnici tutti i piatti sono cucinati al momento la pescheria è uno dei bastioni più importanti qui a civita nuova i motivi sono semplici due il pescato locale proveniente dal mercato etico di civita nuova marchi che è una caratteristica una peculiarità fondamentale ma soprattutto il vastissimo assortimento sia di pronti a cuocere che di marinature che vengono presentate sia in una versione servita ma anche in una versione take a guai vedrete come con poco poca spesa si crea un'educazione al cibo sano puoi portare a casa una spigola da fare cartoccio e non spendi neanche 6 euro puoi fare una grigliata di calamari fantastica con poca spesa questa educazione al consumo del pesce è una delle cose più importanti che dobbiamo portare avanti per il futuro per conad è importante anche valorizzare il benessere a civita nuova marchi siamo riusciti a creare proprio un corner del benessere un negozio nel negozio verso natura dove dentro c'è il ciliaco il prodotto integratore il biologico e tutte quelle cose che sono attente all'alimentazione di oggi siamo arrivati alla fine del percorso del supermercato conad che abbiamo aperto in via zavatti a civita nuova marchi quando adriatico presenta l'assortimento della ricorrenza qui in tutta la sua magnificenza le referenze di panettoni pandori torroni giocattolo le cose diciamo che servono per passare queste feste nel modo più degno e più bello possibile le troviamo nell'ultima parte del negozio che è interamente dedicata a questo tema approfitto per augurare a nome di tutta la squadra del punto vendita a tutta la meravigliosi dipendenti che ci lavorano sono 35 persone e ai soci rita che hanno realizzato questa meraviglia un augurio di buone feste che siano le più serene possibili le più emozionanti e le più belle che possiamo ricordare in un'epoca così difficile